amici di l'inter fan tv cuori forti nerazzurri bentornati bentornati da Michele Borrelli alle nostre video pagelle dagli studi di sette gold eccezionalmente oggi ho seguito la partita con Filippo Tramontana qui negli studio abbiamo sofferto tantissimo ebbene sì l'inter ha sofferto a Cremona oggi è vero che c'erano anche delle assenze Skriniar Barella le squalifiche Lukaku solo l'ultimo quarto d'ora Brozovic è ancora fuori per oggi l'inter ha dato troppe volte la sensazione di non poter gestire mai la partita anche quando poi è passata in in vantaggio 2 a 1 nel secondo tempo con Lautaro che ha fatto una doppietta arriva a quota 11 gol in campionato sempre Dzeko entra nell'azione dei due gol prima al ventunesimo l'inter era passata in svantaggio con un gol all'incrocio dei pali di Okereche grandissimo gol all'undicesimo l'inter era partita fortissimo tanti calci d'angolo poche occasioni però clamorose segna la Cremonese e poi l'inter la rimette subito sull'1 a 1 e poi ci prova ma con poca cattiveria in aria di rigore quindi il primo tempo finisce 1 a 1 il gol di Lautaro è una respinta di Carnesecchi sul tiro di Dzeko mentre il secondo ancora una volta è Dzeko che serve bene Lautaro che al 65esimo quindi a metà secondo tempo mette la partita sui giusti binari a quel punto Ballardini anzi già un po' prima aveva iniziato a crederci di più perché l'inter in difesa soffriva soprattutto nell'uno contro uno e quindi aveva giunto a Fena Ghianna al posto di Castagnetti quindi tentando anche con i veloci di mettere in difficoltà la difesa dell'inter che andava in difficoltà già di suo però subito dopo arrivava il gol dell'inter e allora Ballardini li metteva in campo tutti con giocatori più offensivi e ci provava buttando il pallone in aria l'inter faceva fatica a ripartire è entrato Aslani è entrato bene Aslani questa è una nota positiva della giornata della giornata di oggi e poi ovviamente Lautaro Dzeko che sono sempre una sicurezza per l'inter è tornato a titolare anche Dunfris benino è uscito un po' fuori alla distanza un po' meglio nel secondo tempo mi aspetto sempre di più da lui e poi c'è Michi Italiane che continua a giocarle tutto e deve tirare la carretta oggi Gagliardini tante polemiche tifosi mi avete scritto prima della partita perché titolare lui non Aslani Inzaghi vede Aslani come regista e basta questo è un limite perché potrebbe giocare anche in altri in altri ruoli Gagliardini ma anche Correa che è entrato come al solito diciamo non li posso mettere nelle note positive della partita per usare un eufemismo e c'è da dire che anche Alcerbi ha rischiato qualcosina quando si è fatto ammonire cercando di recuperare su un contropiede della della cremonese scivola e poi va a fare fallo anche Cialanoglu si è fatto ammonire su una ripartenza della cremonese e poi è arrivata come al solito la sostituzione Aslani proprio al posto di Cialanoglu mentre Acerbi è rimasto in campo fino all'ultimo Inzaghi ha cambiato Gossens per Di Marco e poi le due punte quindi Lukaku e Correa nell'ultimo quarto d'ora ma andiamo a dare un po' di voti poi mi scrivete come sempre mi raccomando serenamente i commenti allora Onana sul gol non poteva niente gol all'incrocio dei pali poi ha fatto un po' qualche giocata delle sue nel senso un po' spettacolare anche all'ultimo minuto si è preso qualche rischio dribbling con la mano oggi ci ha fatto vedere questo ma diciamo un 6 più per Onana perché ha dovuto fare anche una parata su un colpo di tacco dove Bastoni si era perso all'inizio della partita l'attaccante della cremonese quindi diciamo un 6 più ad Onana ci sta in difesa avevo detto Acerbi qualche rischio soprattutto quello sull'ammunizione quindi gli do 6 meno Bastoni bene in fase propositiva ma dietro deve essere un po' più cattivo come dico spesso gli do comunque 6 più per la fase offensiva e Darmian è quello che mi è piaciuto di più dei tre dietro gli do 6 e mezzo anche un salvataggio una palla che stava andando in porta sarebbe stato il 2 a 2 lui spesso con i movimenti anche da terzo di difesa dove lo metti sta ed è quello che sempre tatticamente si fa trovare nel posto giusto dove deve stare quindi 6 e mezzo sugli esterni Dunfriss e Di Marco benino ma come dicevo per Dunfriss anche da Di Marco ci ha abituato bene mi aspetto di più quindi 6 e più 6 più per tutti e due Cialanoglu sufficienza risicata forse un po' di stanchezza per lui per Mkhitaryan Gagliardini 5 Mkhitaryan e Cialanoglu 6 Gagliardini 5 perché nel primo tempo ha diciamo provato no a proporsi sbagliando però in diverse occasioni un po' la scelta finale soprattutto in area di rigore il tiro e il passaggio tanta volontà ma in precisione più volte poi nel secondo tempo ha perso anche qualche pallone di troppo in attacco i due uomini della partita soprattutto Lautaro che è vero che si mangia già il 2 a 1 alla fine del primo tempo su una respinta di carne secchi poteva forse essere più lucido a stopparla mentre tira di prima e sbaglia però poi ha fatto i due gol cosa gli vuoi dire gli do un 8 così come Dzeko che anche lui poteva metterci un po' più di cattiveria soprattutto nel primo tempo però entra in tutte e due le azioni dei gol e quindi 7 anche per Dzeko i subentrati allora il migliore Aslani sicuramente mi è piaciuto è entrato con personalità e deve giocare di più e se lo merita quindi 6 e mezzo per lui Gossens 6 è entrato ha fatto il suo anche da lui ci aspettiamo sempre qualche giocata decisiva in più magari con l'Atalanta con la sua ex squadra proprio martedì potrebbe essere il momento di giocare titolare poi Lukaku rispetto a Monza è entrato molto meglio oggi qualche pallone l'ha difeso qualche sponda qualche punizione l'ha presa ovviamente la condizione migliore ancora lontana ma bisogno assolutamente di di giocare non sarà facile metterlo dal primo minuto proprio con l'Atalanta e con il Milan ma almeno aumentare il minutaggio si corre a come come nelle altre partite non voglio infierire perché non mi piace proprio l'atteggiamento cioè tu in attacco la giocata la devi provare non si capisce perché fa la giocata all'indietro il passaggio troppo scontato semplice quando sei in una posizione di campo dove devi provare la giocata l'Inter è ultimo in Serie A per dribbling riusciti e su questo se non li fa Correa chi? Inzaghi oggi io gli do 5 e mezzo perché non è stato un Inter convincente parlo ovviamente sempre della della prestazione il risultato è vero l'approccio è stato buono però la squadra ha mostrato fragilità insicurezza nel gestire la partita ha concesso anche occasioni alla Cremonese anche se ha sempre fatto la partita ha buttato tanti palloni in aria però c'era insicurezza nella squadra e su questo l'allenatore deve deve assolutamente inzaghi deve deve lavorare un Inter come oggi non può bastare né con l'Atalanta martedì e né ovviamente nel derby di domenica prossima quindi 5 e mezzo 5 e mezzo per lui ci portiamo però a casa questi tre punti che sono un brodino dopo la sconfitta con l'Empoli l'Inter poteva andare a 43 invece a 40 ma siamo alla prima di ritorno e ora bisogna inanellare ancora punti 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 staccare soprattutto staccare la quinta e poi non si capisce perché questa squadra debba avere tutta questa insicurezza in difesa è vero che Skriniar è il marca forse l'unico vero marcatore che ha la difesa dell'Inter però anche gli altri soprattutto bastoni deve crescere da questo punto di vista e poi con il ritorno di Brozovic un po' più di interdizione di filtro serve assolutamente anche oggi ripeto le ammunizioni di Acerbi e Cialanoglu non sono casuali perché è una squadra che va con convinzione in avanti e si dimentica a volte le marcature preventive i movimenti cioè non fiuta il pericolo ecco e a volte va con troppa convinzione in attacco con tanti uomini e se ti prendi un rischio con la Cremonese figuriamoci che cosa può succedere quando poi si alza il livello il livello dell'avversario quindi vado a ricapitolare come sempre i voti velocemente allora un'ana sei più sei più anche a bastoni sei meno invece ad Acerbi sei e mezzo a Darmian sei più sia a Di Marco che a Dunfris che assolutamente adesso se finisce il mercato deve diventare un altro giocatore quello che abbiamo apprezzato nella scorsa stagione sei a Mkhitaryan sei a Cialanoglu cinque Gagliardini otto a Lautaro sette a Dzeko sei e mezzo al subentrato Aslani sei a Lukaku cinque Correa sei a Gossens cinque e mezzo Inzaghi un caro saluto da Michele Borelli dagli studi di Sette Gold potete seguirci anche nella seconda parte ovviamente parleremo di Inter le parole di Inzaghi anzi facciamo così vediamo se è arrivata la prima dichiarazione di Inzaghi la commentiamo insieme in diretta vediamo un po potrebbe essere arrivata o forse no ecco c'è Lautaro Lautaro migliore in campo tre punti che pesano tantissimo venivamo da una sconfitta con dieci giocatori è difficile giocare per chiunque abbiamo lavorato per portare a casa il risultato l'abbiamo fatto con fatica ma saranno così tutte le partite dobbiamo essere pronti andare alla guerra oggi capitano Lautaro tra l'altro quando è uscito la fascia è andata a Gagliardini attenzione per anzianità anche se Lautaro è arrivato nel 2018 Gagliardini 2017 quindi poteva essere anche al contrario ovviamente scelto Lautaro dall'inizio dove può arrivare questo Lautaro a 20 gol ricordo che in campionato ha fatto 6 14 17 21 adesso è arrivato a 11 siamo a metà stagione non lo so dice il numero 10 dell'Inter spero di fare il massimo e di aiutare la squadra questa è l'unica cosa importante portare l'Inter più in alto possibile dare una mano ai compagni su chi fate la corsa su di noi abbiamo lasciato tanti punti non dobbiamo andare oltre 13 punti di distacco sono tanti Napoli che affronterà domani sera la Roma dobbiamo guardare a noi e migliorare di giorno in giorno l'Atalanta dovremo essere preparati recuperare le energie perché sappiamo com'è il loro calcio e sarà una battaglia vogliamo vincere la Coppa Italia e giocare un'altra supercoppa come per dire con il campionato e oggi quasi impossibile a Cerbi ogni squadra che viene a Lozzini fa fatica anche la Juve ha vinto con una punizione al 91 tra l'altro il Mila ci ha pareggiato l'abbiamo preparata bene hanno solo fatto il tiro della domenica noi abbiamo fatto tante occasioni grandissimo il gol di Occhereca dobbiamo dire all'undicesimo minuto pareggiare sarebbe stata una beffa ma ci siamo meritati questa partita siamo l'Inter dobbiamo mettercelo in testa dobbiamo cercare di vincere contro chiunque l'atteggiamento fa la differenza per andare avanti in tutte le competizioni questo deve essere un punto di partenza la base per una grande squadra e poi un'altra battuta sul rimanere lucidi nonostante l'ammunizione non l'ha sostituito oggi Inzaghi e secondo me ha fatto bene su questo nel primo tempo ho sbagliato dovevo darla al portiere infatti anch'io in diretta dicevo lì non devi avere la presunzione di voler ripartire in un'azione difficile gioca semplice se in anticipo e la dai o al portiere o al compagno vicino i giocatori anche se ammoniti devono essere sempre attenti a cosa fare l'attenzione alla dote principale di un difensore le qualità vengono dopo ho pensato ad aiutare i miei compagni sapendo di essere ammonito e quindi diamo comunque da Cerbi quello che dia Cerbi perché abbiamo visto anche De Vrai con Lempoli e quindi teniamoci stretto teniamoci stretto a Cerbi ecco qua sentite Inzaghi che evidentemente è arrivato in conferenza ma abbiamo appunto le sue parole a Dazon cosa non è andato questa sera anche se il risultato salva tutto gli chiedono vittoria pesante però non sembrava particolarmente soddisfatto diceva alla squadra di restare corta gli chiedono ha interpretato male da bordo campo gli dicono cioè gli risponde io sono contentissimo della mia squadra abbiamo fatto una grande prova il gol poteva crearci qualche problema ma noi siamo stati bravi a rimanere sul pezzo loro venivano dal pari di Bologna sono molto contento della partita dicevo ai ragazzi di rimanere corti perché loro calciavano molto lunghi ma sono soddisfatto del risultato ha detto da Cerbi di regalare i pantaloncini ad un ragazzino si era di fianco dalla panchina ci ha sempre incitato oggi erano tantissimi a sostenerci ci hanno fatto una gran festa dopo la supercoppa non siamo stati in grado di ripagarli con l'Empoli come mai tanti gol in trasferta incassati oggi l'Inter pensate ha preso gol in trasferta per la quattordicesima volta consecutiva da Juventus Inter dello scorso aprile che l'Inter non finisce una partita fuori casa senza prendere gol ci stiamo lavorando dice Inzaghi ma chissà quali domande avrei dovuto sentire se avessimo perso polemica di Inzaghi comunque siamo l'Inter dobbiamo fare grandi partite senza subire questi gol dobbiamo cercare sempre di lavorare fare meglio hai comunque un'ottima risposta dai tuoi uomini hai avuto ho avuto grandissimi segnali sapevamo di trovare una squadra in salute che ci avrebbe messo in difficoltà se devo trovare una pecca sono stati gli errori rifinitura che se fatti bene non ci avrebbero fatto arrivare sul 2 a 1 a fine partita ma sono contento ora pensiamo a martedì su questo siamo d'accordo con Inzaghi questo è un vecchio difetto non puoi fare solo nel primo tempo 20 tiri in porta e fare un solo gol Gego e Lautaro sono talmente belli da vedere che è difficile dividerli assolutamente sì stanno bene ma stanno tornando anche Lukaku e Correa che si stanno allenando nel migliore dei modi crescerà anche la loro condizione anche perché è difficile impiegare Edin e Lautaro sempre ultime risposte di Inzaghi al derby di campionato con lo stesso entusiasmo della supercoppa senz'altro ma prima c'è l'Atalanta martedì in Coppa Italia abbiamo partite ogni tre giorni e mezzo e cerchiamo di farne nel migliore dei modi cercando di recuperare giocatori che ci daranno una mano manna dal cielo oltre a Skriniar e Barella il ritorno di Brozovic che dovrebbe tornare ai convocati al massimo nel derby chiude il mercato Skriniar sarà ancora a disposizione dopo il 31 di gennaio chiedete a Marotta e ausilio ho detto che Milan è un grandissimo professionista che si allena sempre al massimo poi cosa succederà non lo so mi concentro sul campo sui giocatori a disposizione dalla Francia scrivono che ancora ci potrebbe essere un ultimo tentativo del Paris Saint Germain a 15 milioni ma al momento non ci sono offerte la Coppa Italia è un obiettivo certamente ci teniamo vogliamo onorarla avendola sulla maglietta vogliamo preparare al meglio la sfida contro un avversario in salute conclude così Inzaghi a Dazon poi se ci seguirete su 7 gold commenteremo anche la conferenza comunque un Inzaghi che polemizza quando gli dicono che non è soddisfatto che richiamava i giocatori vuol farsi vedere comunque sicuro contento soddisfatto in effetti comunque il risultato aiuta a lavorare anche meglio però ci sono sicuramente delle cose a rivedere soprattutto la fase difensiva ormai un problema cronico cronico quest'anno ci vediamo noi lunedì con il black and blue monday evening buon weekend di campionato Roma Napoli soprattutto ma anche Lazio Fiorentina ci saranno tante belle partite Milan Sassuolo Juventus Monza a presto iscrivetevi al canale fatelo conoscere ai vostri amici interisti un caro saluto da Michele Borrelli sempre Forza Inter 11 con Lautaro Inter che sale a 40 secondo posto momentaneo aspettando il Milan domani alle 12 e 30 ciao